Io quando ero bambino, e questo te lo dico con il cuore, anche quando avevo firmato il primo contratto con la Juve a 18 anni e quindi avevo già un mio stipendio, ma anche quando iniziò il campionato di Serie B io non pensavo al contratto. Io pensavo che il mio sogno era, io voglio giocare al Bernabeu contro la Real Madrid, io voglio andare all'Old Trafford, io voglio giocare alla Champions League, io voglio vincere uno scudetto. E guadagnavo già, ma non me ne fregava niente di quello. Anche quello secondo me un po' ti fa perdere la testa, cioè il tipo di obiettivo che tu hai, cioè se il tuo obiettivo è un sogno autentico, una passione, a quel punto tu hai una fiamma dentro e sei anche disposto a fare un certo tipo di sacrificio, con un certo tipo di mentalità. Quando il tuo sogno è anche un po' effimero, come guadagnare tanti soldi o diventare famoso, forse lì non ce la fai a reggere anche tutto quello che magari deve reggere o hai retto tu durante la tua carriera.